Buongiorno a tutti. Allora, magliettina del gigione eccola qua con la frase con le tre scimmiette avviciniamo e poi c'è anche il cuoricino sotto. Bene, dopo avervi fatto vedere la maglietta con le scrittine andiamo a queste call news. Di che cosa parleremo? Parleremo di una regina egiziana famosissima e il principale egittologo Zai Awas ha fatto un'affermazione importantissima un anno fa, più o meno un anno fa. Siamo intorno al 20 di settembre, quindi un annetto fa, 20 settembre del 2022, ha fatto questa affermazione qua. Poi naturalmente se usciranno nuove notizie ve le farò sapere, però lui ha fatto questa affermazione importante e ne parleremo in maniera molto rapida e veloce. Poi abbiamo la biografia, quindi se è una cosa un po' lunghino ma bella, che riguarda un personaggio della tv che era la moglie di un personaggio simpaticissimo della tv e che ahimè ci hanno lasciato praticamente uno prima lui e dopo lei ormai 13 anni fa. Adesso vado a vedere una cosina ma più o meno siamo lì, ahimè eh sì, proprio esattamente a settembre del 2010. Il 21 settembre del 2010 ci lasciava questa brava attrice, personaggio televisivo, cantante, moglie di un altro personaggio televisivo famosissimo che fece anche il presentatore a Pressing, fece una maria di film negli anni 60 soprattutto con Ugo Tognazzi e con anche altri personaggi. Venne cacciato dalla RAI per una battutina che lui e Ugo Tognazzi, se non ricordo male, fecero negli anni 60 sul Presidente della Repubblica, ma ne parleremo. Andiamo a raccontare questa cosa qui dell'egittologo e poi parleremo di lei. Il principale egittologo Zai Awas afferma di aver trovato la posizione della mummia della regina Nefertiti. Secondo un rapporto di Newsweek il famoso archeologo Zai Awas collega i resti rinvenuti lo scorso anno, quindi due anni fa, nel 2021, nella Valle dei Re a Luxor con resti di antichi sovrani che non sono stati ancora scoperti. In ottobre dell'anno scorso, ma siccome la notizia di settembre del 2022 vuol dire che saremo in grado di annunciare la scoperta della mummia di Ankesennaumun, la moglie di Tutankamon e di sua madre Nefertiti, ha detto Awas in un'intervista. La regina Nefertiti, nome completo Neferneferuaten Nefertiti, Una volta governò l'Egitto insieme a suo marito, il famoso faraone Amenhotep IV, circa 3.300 anni fa, nel 14 a.C. Il periodo fu definito come un periodo di grande opulenza e disordini sociali, dove Nefertiti e Amenhotep convertirono in particolare l'Egitto dal politeismo a una società monoteista dedicata al dio sole, Aton. I due avrebbero continuato a sostituire gran parte dell'iconografia religiosa dedicata al dio Amon a favore di Aton, Aton trattino Amenhotep, arrivando a cambiare il proprio nome in Akeraton che si traduce in Benefico Peraton. Dopo la sua morte gran parte delle usanze tradizionali dell'antico Egitto furono restaurate e Amenhotep insieme a Nefertiti furono in gran parte dimenticati negli archivi storici ed allora sono rimaste un mistero. Sebbene Awas sia sicuro di aver trovato i suoi resti mummificati, ci sono molti nei circoli archeologici che esprimono sospetti. Ci sono molti oschettacoli alla scoperta della tomba di Nefertiti, data la sua vita misteriosa di cui è stato rivelato solo un po', ha detto lo storico ed egittologo egiziano Bassam el-Shamah in un'intervista. Si dice che le figure più famose dell'antico Egitto siano le più misteriose. Dubito che la squadra, messo tra parentesi quadra, troverà la mummia e la tomba originale di Nefertiti a luxo per motivi religiosi e politici in particolare, tra cui l'inimicizia con i sacerdoti di Amon Ra, dopo che suo marito Akenaton ha chiesto di adorare il dio Aton e lei lo ha sostenuto. Ciò ha provocato problemi e li ha spinti ad abbandonare Tebe, la capitale dell'antico Egitto, e a costruire una nuova capitale ad Amarna. Conclude Bassam al-Shamah. Quindi naturalmente ognuno tirà acqua al suo mulino. Se avrò notizie magari in ottobre, ci saranno, ottobre dell'anno scorso c'è tutte le notizie messe lì, quindi piano piano vedremo tutto. Adesso sto aggiungendo nuove cose, ma credo che le news ci vorrà un po', ragazzi. Dovrete avere presenza per le news. Probabilmente nella notte di giovedì riuscirò a fare qualcosa. Visto che ho la giornata libera, mi organizzerò durante la sera, visto che non sono al ristorante a lavorare fino alle tre di notte. Nella sera magari ne approfitto per inserire anche qualche news nuova che vedremo con la settimana successiva. Tenete conto che adesso al giovedì questo, al giovedì successivo e al martedì dopo ho una giornata che posso dedicarmi anche un po' a me stesso. Perché ultimamente veramente... Poi dopo naturalmente dopo metà ottobre che ho finito la stagione, avremo tempo anche con le dirette e quant'altro, sperando che mi permettiate di fare delle dirette divertenti, simpatiche, anche di cinque ore non è un problema, però senza gente che viene a rompere i testi. Perché sennò francamente io la stoppo lì e vado a fare altro, perché di stare in diretta cinque ore a farmi prendere per il culo da gente che non considero, ne faccia meno. Ve lo dico sinceramente. Perché non ho bisogno di fare ore e ore di visualizzazione. Per me è un passatempo, quindi deve esserlo per me e deve esserlo per le persone che hanno voglia di stare con me a a chiacchierare, a parlare eccetera. Se dovete venirmi a prendere per il culo va bene, però mi pagate. Come ho già detto, vuoi venire lì a insultarmi? Mi paghi ogni insulto 10 euro, ok. Ma se devo farlo a gratis e farmi insultare da gente curo cu ne faccio meno. Quindi se arrivano con le carote, mica le carote eccetera, io dopo ve lo dico, senti cortesemente, puoi smettere di mettere le carote, va avanti a mettere carote, io smetto e vi saluto. Poi prendetevela con lui, ma io non sto lì a farmi mettere 350 carote. Una volta ci sta, fai la battutina, ok, l'accetto. Ma se vai avanti tutta sera a mettermi carote, io chiudo, baracchi e burattini, vado a vedermi un film, vado a fare le mie cose eccetera. Quindi ve lo dico già adesso. Andiamo alla seconda notizuola, ragasoli, ragasoli, perché abbiamo questa bella biografia di Cronis, Cronis, ringrazio Cronis. Ho deciso che ogni tanto inserirò anche qualche nuovo sito web simpatico che mi dà queste belle notizie. Ormai sono quasi 13 anni che non c'è più Sandra Mondaini. L'attrice non ha mai fatto un mistero del suo dolore per non aver avuto un figlio tutto suo e ne parleremo anche in questa biografia veloce veloce. Sandra Mondaini ci lasciava quasi 13 anni fa e forse ne aveva anche voglia di andarsene, ahimè. Il mondo è alla deriva, non mi piace più, diceva poco prima di morire. Sandra è stata luce ed energia, la ricordiamo in particolar modo in coppia con l'inseparabile marito Raimondo Vianello. Ed insieme hanno fatto la storia della tv italiana, prima alla Rai, poi a Mediaset. Sandra incarnava perfettamente lo spirito dell'eterna bambina Allegra. Siamo di quella generazione in cui l'attore sapeva di entrare nelle case senza suonare il campanello e quindi c'entrava con la cravatta e con Garbo. La Mondaini è sempre stata una persona umile, trattava tutti sempre allo stesso modo, hanno sempre detto di lei, compresa la tata di Casa Vianello interpretata da Giorgia Trasselli. Una carriera che non può prescindere dall'amore con il marito. Lei arrivava sul set completamente impreparata sul copione e Raimondo stava lì a spiegarle tutto. Era premurosa con lui e veniva ricambiata dal marito. Quando le cose tra i due non andavano bastava una carezza, un complimento, bastava poco per che tornassero. Si amavano molto. Eppure erano così opposti. Sandra amava a stare in compagnia, odiava il fatto che Raimondo fosse un solitario. Lei voleva incontrare la gente e far tardi la sera. Raimondo voleva solo stare a leggere. Sandra aveva il suo stile, sempre con tuta ma col tacco. La comicità gliela ha insegnata al papà. Quelle doti di far ridere me le ha trasmesse lui, il signor Giacinto Mondaini, pittore umorista della rivista satirica Albertoldo, diceva lei. Ho avuto un eserimento nervoso perché non avevo una famiglia completa. Ecco il dolore di Sandra Mondaini per non aver mai avuto un figlio tutto suo. Sandra non ha mai nascosto il suo desiderio irrefrenabile di avere una famiglia completa. Con Raimondo adottarono i figli dei domestici filippini che lavoravano nella vera casa dei Vianello. Preferisco star poco bene io che i bambini, disse a Don Mazzi nell'intervista per Odeon TV, poco prima di morire. Ho voluto un bambino da sempre ma non ce l'ho con Dio. Non ero adatta apparentemente a fare la mamma, ma dentro lo volevo. Lo volevo e come. Lo voleva e come la Mondaini. Ma ahimè ha avuto anche un eserimento nervoso proprio perché non aveva una famiglia tutta completa. Chiamò un'agenzia messo tra virgolette e chiese voglio un bambino di dieci mesi non troppo grande né troppo piccolo. Lo trovò e lo adottò senza averlo mai visto. I figli di Edgar e Rosalie Maxino, i domestici filippini di Sandra e Raimondo, John Mark e Raymond, hanno ereditato la fortuna della celebre copia della TV, compresa la loro casa dove ancora oggi vivono. Non pensavo esistesse ancora gente così. I loro genitori sono buoni, bravi. Proprio i nipoti di Sandra hanno testimoniato a più riprese come in quella casa la presenza dell'amata copia del piccolo schermo sia ancora viva. Spesso hanno dichiarato che avvengono episodi paranormali nell'abitazione, come la TV che si accende da sola o ospiti che intravedono sagome di un uomo alto e senza capelli e una donna più bassina con i capelli a caschetto che si tengono per mano. I pregi di Sandra sono buona, lascio perdere, ma non so perdonare anche se nella vita ho perdonato tanto. Don Mazzi però a Deon TV le chiese che donna fosse. Sono una donna semplice perché devo vestirmi per forza in un certo modo, dandomi delle arie, punto di domanda, raccontava a lei. Erano giorni in cui l'attrice era visibilmente affaticata e la velocità di pensiero ne risentiva. Ma il cuore restava integro come sempre e colse l'occasione per manifestare un pensiero. A volte non ne posso più e sono stanca di vivere. Il mondo non è più mio e non mi piace più dove sta andando, diceva lei nel lontano 2010 oramai. Vediamo un po' la carriera di Sandra Mondaini però. Sandra a sei anni e mezzo apparve in qualità di piccola modella per una campagna contro la tubercolosi. Due anni dopo era sui francobogli e manifesti murali. D'altronde chi va con lo zopo impara a zoppicare, disse riferendosi al papà. Lo raccontava Don Mazzi in una delle ultime interviste, come dicevamo, a Odeon TV. La mamma di Sandra era Giuseppina Lombardini. Sandra Mondaini e la scuola. Per me era arabo, racconta lei. La bella e simpatica Sandra frequentò il Leonardo da Vinci, ma come molti ragazzi dell'epoca, verso la mità degli anni 40 dovette andare a lavorare. Lei non voleva recitare. Mio papà mi disse di andare a lavorare a 14 anni e sono andata a lavorare. Ho bisogno di soldi. La scuola in realtà non le piaceva molto. Entravo in classe e non capivo niente. Arabo. Avevo la testa vuota, imbambolata. Era la stessa maestra a perderci le speranze. Pur riconoscendone le qualità, mancava il giusto atteggiamento per affrontare gli studi. Queste le parole della sua maestra. Questa bambina è intelligente se si applica, ma purtroppo non capisce niente. Lei ne parlava serenamente. Se avessi studiato, sarei risultato una donna noiosa, petulante, presuntuosa, saccente. Sarebbe uscito fuori il peggio di me. Io sono molto colta di vita, raccontava lei. Sandra Mondaini scopì presto la sua verve, poco tempo dopo essere stata costretta ad andare a lavorare. Eravamo tre ragazze e fece una particina. Aveva 18 anni e recitò con Tino Scotti e Fran Carame in Ghe pensimi, ci penso io, detto in milanese per chi non lo conosce, al Teatro Olimpia di Milano per la regia di Marcello Marchesi. Eppure disse al regista, non scelga me, prenda qualcun altro. Ma non c'è stato niente da fare. Lo sketch con Scotti? Lo sento ancora mio. E da lì tutto cominciò. Poi ci si abitua a tutto, raccontava lei. Sandra, prima di apparire a teatro, lavorava come modella per Mani di Fata, settimanale femminile dell'epoca, e poi lavorò per il fotografo Elio Luxardo, prima, e per la Borsalino, nota a casa di Cappelli. Al cinema debuttò, pensate, nel 1953 con Attanasio Cavallo Vanesio di Camillo Mastro V. Parallelamente esordì anche in radio in Occhio Magico, programma condotto da Nino Taranto. In quel periodo Sandra Mondaini diede vita al personaggio della terribile bambina che fece la sua fortuna anche in alta trasmissione, compresa Fortunatissimo con Mai Buongiorno. Lei fu la prima balletta del primo quiz della tv Attenti al Fiasco, condotto da Dino Falconi. Sandra si affermava come subret contemporaneamente capace di brillare nelle vesti di attrice. Pese parte a diversi film e trasmissioni come il varietà Lui e Lei, ancora con Nino Taranto e con Deglia Scala. Nel 1954 partecipò a programmi più popolari come anche Sette Note, quattro anni dopo conobbe Raimondo Vianello. Lo sai che mi sono innamorato di te? Punto di domanda. Era la famosa frase che Raimondo le disse una sera. E quindi si sposò con Raimondo, l'unico di cui mi potevo fidare. Un amore nato a cena, una sera dopo il teatro. E infatti lui le disse la frase, la famosa frase, lo sai che mi sono innamorato di te? In modo estemporaneo, quasi nulla fosse, continuando poi a tagliare la milanese. Tutto è cominciato così. Eravamo a cena con tutta la compagnia. Io ero fidanzata con Giuseppe Pederine, un produttore, Raimondo con Stella, una ballerina. Ci parlammo e davanti a una cotoletta a un tratto mi disse, lo sai che mi sono innamorato di te? La Mondaini rispose, vai a farti benedire. Allora un camminato di questo tipo era piuttosto insolito. Era il 1958. Dopodiché si voltò verso Gino Bramieri e cominciò a parlare del più e del meno, come se non esistessi. Non abbiamo mai smesso di ridere, Elsa Greco per stare bene insieme. Noi ridevamo delle stesse cose, poi abbiamo portato il nostro modo di essere in televisione. Questo raccontava appunto Sandra Mondaini del rapporto che aveva con Raimondo Vianello. Dopo quattro anni convolarono a nozze Benedetti nella chiesa di San Giovanni a Porta Latina a Roma, dove si celebrò il matrimonio, con cronista esclusivo Maurizio Costanzo, che ahimè sono morte tante tante persone di spessore del mondo, del nostro mondo. Raimondo non si è mai tirato indietro. Sandra la ricordiamo ancora al cinema sino agli anni 60, come nel film Le Olimpiadi dei mariti, proprio con Vianello e Ugo Tognazzi, e Caccia al marito, due film che le diedero molta visibilità. Molò il cinema per dedicarsi prima al temato, come in Un mandarino per Teo, di Garinei e Giovannini, e poi alla televisione. Nel frattempo con Raimondo presentavano una rivista molto tradizionale, un jukebox per Dracula. Il primo vero successo sul piccolo schermo è del 1961 con Canzonissima, che Sandra condusse interpretando I bambini terribili con Paolo Poli, Filiberto e Arabella. Nel 1961 riprese il feeling con il cinema, ma l'anno seguente tornò a condurre Canzonissima, senza chiudere definitivamente con il grande schermo. La ricordiamo in La ragazza sotto il lenzuolo, le magnifiche sette, bellezze sulla spiaggia, scandali al mare e il giorno più corto. Lavorò con l'umorista Marcello Marchesi e con il regista Marino Girolami, poi iniziò ad avvicinarsi professionalmente a Raimondo Vianello. Nel 1964 girava i primi sketch matrimoniali con Corrado che affiancava la conduzione di La Trottola e appariva come protagonista in Cadavere per Signora di Mario Mattoli. Gli anni 60 segnarono diversi successi per l'artista che si divideva tra le conduzioni televisive e i film per il grande schermo, sino al 1966 dove con Mi vedrei tornare chiudeva una lunga parentesi cinematografica che avrebbe riaperto e poi richiuso definitivamente nel 1982 con il celebre Sbirulino. Nei primi anni 70 la coppia con Raimondo era caulladata e due spopolarono in show come Sai che ti dico, punto di domanda, protagonisti con Iva Zanicchi. Sandra conduceva anche Gran Varietà in radio con Raffaella Carrà, Walter Chiari, Paolo Villaggio e Gino Bramieri. Con Raimondo li ricordiamo nei programmi Tante scuse e di nuovo Tante scuse, trasmissione in cui Sandra confermava la sua poliedricità come attrice, presentatrice, cantante e ballerina. Con Raimondo mollarono per un po' la tv dedicandosi al varietà radiofonico per poi tornare sul piccolo schermo con Noi No nel 1977, il primo programma a colori per la coppia. In Io e la Befana Sandra interpretava per la prima volta il clown Sbirulino acclamatissimo dai bambini. Di Noi No ricordiamo benissimo la sigla finale dove Raimondo Bianello interpretava un Tarzan un po' sfigatello che cercava di salvare la Sandra Mondanini dai bracconieri eccetera, ma finiva sempre per fare delle figure barbine. Nei primi anni Ottanta, chiuse con la Rai dopo aver preso parte a Domenica Inn e dopo aver condotto con Raimondo Stasera Niente di Nuovo, nel 1982 con Raimondo passò alle reti Fini del West, spopolando con i programmi attenti a quei due, 1982, Zig Zag 83-86, Sandra e Raimondo Show 1987, ma soprattutto Casa Vianello, con le varianti estive di Cascina Vianello del 1996 e i misteri di Cascina Fianello del 1997. Sandra è stata testimonial pubblicitaria dei prodotti che apparivano negli sketch di Carosello. L'ultima avventura della coppia risale al 2008 con Crociera Vianello. Sandra Mondaini annunciò il ritiro dalle scene durante la presentazione del film, rivelando anche di essere malata. Il 15 aprile del 2010, ahimè, morire Raimondo. Sandra ci lasciò pochi mesi dopo il 21 settembre del 2010. Sandra si è spenta a 79 anni. Il giorno che annunciò il ritiro dalle scene, profondamente commossa, svelò di aver avuto una diagnosi di basculite, una malattia misteriosa, un'infiammazione dei muscoli per cui non si conosce cura, che la costrinse in sedia a rotelle. La morte del marito la provò particolarmente e la malattia si aggravò tanto che Sandra Mondaini fu ricoverata più volte presso l'ospedale San Raffaele di Milano e la casa di cura San Rossore di Pisa. Morì nella struttura ospedaliera milanese dopo dieci giorni di ricovero per insufficienza respiratoria. Sandra superò già un tumore ai polmoni nel 1997. Quando quel giorno del 1997, per un raffreddore banale e un po' di freddbre, mi hanno giornisticato il tumore, sono rimasta colpita ma non mi sono sentita perduta, raccontò diversi anni fa al Corriere della Sera. Del resto, tanti anni prima, quando certo non c'erano le cure di adesso, Raimondo aveva avuto un tumore al rene ma ce l'aveva fatta, aveva vinto, avevamo vinto. I funerali, ahimè, si svolsero il 23 settembre presso la chiesa di Dio Padre a Milano 2. Sandra era alta un metro e cinquantasette e pesava circa cinquanta chili. L'attrice indossava sempre gli occhiali perché soffriva la luce troppo forte. Gli stessi divennero un simbolo caratteristico del suo personaggio. Bene ragasoli, con questa triste notizia, ma purtroppo è una notizia ormai di 13 anni fa, vi ho voluto raccontare un po' di curiosità su Sandra Mondaini, visto che spesso vi ho raccontato Raimondo Vianello in tanti video, vi ho raccontato anche di quando Raimondo Vianello inizia a giocare in quel campetto vicino casa sua alla domenica mattina, raccontato da una delle persone che hanno avuto piacere di conoscerlo eccetera, e poi quel campo è stato appunto dedicato a lui quando ahimè venne a mancare. Ragasoli, vi saluto, vi ringrazio, spero che racconto sulla Sandrina su Sbirulino, su anche Raimondo perché no, perché sono collegati l'uno con l'altro, vi sia piaciuto e naturalmente ci vediamo alla prossima. Ciao!